Chi è che si becca lo stratplayer non ho capito Benvenuti in questo nuovissimo videozzo Oggi siamo ritornati su Brawl Stars E ho sbloccato Ho imparato a utilizzare poco Mi sono trovato abbastanza bene Nella raccolta delle gemme Quindi che ne dite Andiamo subito a provare Apriamo il baule Che troviamo un po' di robina E anche due che Ci sta ci sta Abbiamo trovato tanta roba Sono contentissimo Partiamo subito con la raccolta delle gemme E utilizziamo poco Poco al suo potere speciale Che è molto forte Perché quello lì non gioca Ok Ovvero che è quello Di sostenere i nemici Solo chiudo stare attento Perché se no c'è già la gente qua cattiva E stiamo praticamente Ok ho due colpi Gli ho dati E sono contento Però Se mi ultimi mi dessi una mano Dai ti do una mano Faccio tornare la vita E' utilissimo perché Dare la vita è un po' Ok Ok l'ho ucciso Però io sono praticamente morto Quindi Ok 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 L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Bene benissimo Amico mio purtroppo Ti devi arrangiare un secondo Che io sono senza vita Ok aspetta Aspetta No no Si è bloccato Dai Perché ogni tanto Non capisco perché ogni tanto si blocca Ok Stiamo vincendo E' utilissimo E' utilissimo perché può dare Da supporto al team Cioè gli darà la vita Gli darà la vita E' una cosa secondo me Utilissima Porca Io mi confondo poi sempre con I Con Undici Occhio Stiamo Cerchiamo di rimanere Insani e salvi Ok no Si è bloccato Si è bloccato Si è bloccato L'avete visto che si è bloccato Che fastidio quando si blocca Ok c'è il countdown Ce n'è uno qui Si whatsapp Lì vatti adesso Non adesso Non adesso Che sono Che sto combattendo tantissimo Ok Ok E' finito Forse mi becco lo strat player Che un paio di chili lo fate No Peccato Comunque sei cose E con poco Mi sono trovato Egregiamente bene Cioè Sono contentissimo Di come mi sono trovato con poco Cioè davvero Davvero Poco è The best Poco Cioè poco vuol dire tanto in realtà Ne facciamo un'altra Cerchiamo di prenderci Lo star player Magari Ah questo qua E' devastante Devo capire che brawler è In primo momento Non lo conosco ancora Ok Io ho due Paio di colpi Gli ho piazzati Però questo qua E' devastante Vieni tutti qua Così vi curo Ottimo Visto che ho Super mega potere Magari Giustamente Dare supporto al team Secondo me Non gli fa male Anche se sono praticamente morto Stiamo attenti Stiamo attenti Stiamo attenti Non fare il camperone Perché è mia gente I miei amici Sono tra tutti Sono tutti qua Se qualcuno Mi vuole dare una mano Accetto volentieri Così I main amicizia Ok Dovrebbe Essere Ok Tutti morti Però io Si miracoli Purtroppo Non riesco ancora a fare Se il mio team Mi dà una mano Ok Eh vabbè Qua Start player C'è di sicuro Si scommetto Ok Prendi tutto qui Ok Sette Dieci Ok Insieme Resistiamo Cacchio Ho mancato Colpa mia 8 Resistiamo 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 Ho ucciso Forse Lo start player Stavolta me lo becco Attenzione Attenzione Si lo start player Lo start player E dai Lo start player Chi è che si becca Lo start player Non ho capito Vinto Ora facciamo Direi la terza Perché comunque Che non fa La terza battaglia Eh fai la terza battaglia Con poco Poco vuol dire tanto Dovete capire Che poco Vuol dire tanto Partiamo subito Ottimo 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 Andiamo a fuocherello Allora questo Allora accolte Va Ok Questo Aia 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 No La cosa Che fa un male cane Fa male Ovviamente La cosa che fa male Fa male Ehi Ehi Grande amico Ok Ora qua Non succede niente No Ora però Voglio stare attento qua Perché ce l'avete con me Non l'ho capita Vi curo Aia Aia Ce n'è uno qua Ce n'è uno qua Ce n'è uno qua Aiutatemi Aiutatemi C'è un camperone qua C'è un camperone qua Ah mi ha ucciso Mi ha ucciso Ci sta Bravo Questa è quella roba verde Ah forse per il team Per il nostro team Mi sembra di sì Allora aspetta eh Per il momento Stiamo ancora vincendo Anche se Me l'ha rubato Ce l'avete visto Che me l'ha rubato Vero Aia Purtroppo Ok L'ho ucciso Tieni Era un po' Sprecato eh È stato un po' Sprecato Però Occhio 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 Vai in zona sicura Vai in zona sicura Ok bravissimo Ok Era ucciso Qua lo strat player Ce la combattiamo io E PY Secondo me Secondo me Ce la combattiamo io E PY Però Abbiamo vinto Direi che GG No Au Ha fatto tante kill Au Non lo so Comunque bravo Bravo il mio team Che dire Sono contento di poco Possiamo sbloccare Allora Abbiamo I baule Della Lega Che ci dà Cosa ci dà Cosa ci dà Dai Dammi soddisfazioni Dammi soddisfazioni Monete Non male Bull Che ho sbloccato Che Non lo so Vedete poi in un prossimo video Colt E basta Un po' tirchietto Come cosino E poi apriamo Il Brawl Box Altre monete Colt Mita Che mi ha Non vi dico cosa Lo vedete nel prossimo video E 5 Gemme Ragazzi Io vi dico che per questo è di tutto Spero vi sia piaciuto Lasciate un percorso Commentate Condividete Iscrivetevi con i vostri amici Iscrivetevi Portate i vostri amici Condividetemi con i vostri amici Iscrivetevi E attivate la campanellina Noi ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao ciao Noi ci vediamo con i vostri amici 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 Noi ci vediamo con i vostri amici